Sotto le sue finestre scorre l'Arno, sull'altra sponda la chiesa di Santa Maria della Spina. Una volta c'era un ponte a collegarla, prosieguo della strada che i pellegrini percorrevano per raggiungere Pisa, attraversando il quartiere che fin dal Medioevo ospitava le famiglie nobili. E' in questo quadrilatero che nasce la residenza invernale di tre dinastie, di Asburgo-Lorena, di Savoia, ma prima di tutto i Medici, autori della costruzione. Decidono nel 1583 di trasferirsi dalla vecchia sede di Pisa, che era dove è attualmente il palazzo della prefettura, lì era il vecchio palazzo dei Medici. Francesco I decide di costruire qui una nuova dimora. Iniziano appunto i lavori alla fine del 1583 e vengono tutto sommato finiti abbastanza velocemente con il progetto dell'architetto Buontalenti. Il palazzo oggi è in parte sede della sovrintendenza, in parte al Piano Nobile, ospita le collezioni d'arte delle famiglie reali. L'aspetto attuale si deve agli ultimi interventi del dopoguerra, ma ogni epoca che ha attraversato ha lasciato i suoi segni nel palazzo reale di Pisa, costruito su una serie di edifici medievali buttati giù dai Medici. Una, la torre della Verga d'Oro, è stata inglobata nel palazzo e si raggiunge con una lunga serie di scalini. Da quassù Galileo mostrò al Granduca Cosimo II i risultati raggiunti nella sperimentazione del cannocchiale, puntando da questa torre verso Livorno. Nelle sale, un tempo usate per pranzi e ricevimenti, i ritratti di famiglia. In questo olio, su tavola del 1549, Eleonora di Toledo ottiene in braccio il figlio Francesco, fondatore del palazzo. Lo ha dipinto il bronzino, pittore ufficiale dei Medici. I colori e la fattura dei vestiti si ritrovano nell'abito femminile che il museo espone insieme ad altre lavorazioni dell'epoca. Un raro esempio ritrovato nel monastero di San Matteo. Siccome le monache riutilizzavano durante le rappresentazioni sacre per vestire le statue, probabilmente la stagola di una Madonna, ha fatto sì che l'abito si sia conservato quasi perfettamente e sia pervenuto ai nostri giorni nelle collezioni del museo. Gli arazzi con scene di caccia conducono nella sala dove nel 1786 Pietro Leopoldo emanò per la prima volta al mondo l'abolizione della pena di morte. Alla stessa epoca degli Asburgo Lorena risale la miniatura in legno del gioco del ponte, la rievocazione storica che continua ancora oggi e di cui il Palazzo Reale di Pisa conserva antiche armature. Dopo le sale che abbiamo già attraversato, dove abbiamo visto esposti i ritratti delle famiglie che hanno occupato il palazzo, si passa in queste altre sale dove invece trovano spazio dipinti che sono stati acquisiti nella collezione del museo più di recente. Il miracolo degli impiccati di un giovanissimo Raffaello apparteneva a un nucleo di opere della famiglia Schiff-Giorgini, recuperate con un sequestro. Della donazione del chirurgo marchigiano Antonio Ceci fanno parte oltre 200 dipinti con una predilezione per opere fiamminghe del Seicento. Un'ala del palazzo accoglie le sculture e i quadri di Italo Griselli, poliedrico artista toscano del primo novecento. Il percorso si conclude qui che in realtà è il soggiorno d'ingresso del palazzo dove troviamo parte di una collezione di opere d'arte che risale alla prima metà del Novecento, al periodo tra le due guerre. Abbiamo opere di Casorati, Longoni, Vilt, appartengono al casato di Savoia, l'ultimo che utilizzò il palazzo reale di Pisa come residenza nel momento in cui diventarono i regnanti d'Italia.